Di quella pira l'orrendo fuoco Di quella pira l'orrendo fuoco Questa è un'aria estremamente ardua Un po' come ho avuto modo di dire parlando della caballetta di Traviata Quest'aria ha un po' le stesse caratteristiche vocali È un'aria che richiede agilità Ma al tempo stesso grande vigore In più nel trovatore con quest'aria si canta con un'intenzione assolutamente più eroica Ci vuole grande energia Ci vuole uno studio a monte molto accurato Perché queste note, queste quartine cantate sulla seconda ottava Proprio a ridosso del passaggio Sono veramente complicate Si vuole fare un'esecuzione precisa Rispetto a quello che è lo spartito di Verdi Grazie a tutti